Cosa significa per lei costruire domani? Allora, per me costruire domani significa introdurre metodi di design computazionali all'interno del processo di progettazione. Significa costruire habitat ottimizzati, che riescono a ridurre la quantità di materiale che utilizziamo e di conseguenza l'impatto di CO2 nell'ambiente. Significa progettare, in vista del climate change, nuovi tipi di materiali, nuovi tipi di soluzioni, e inserire tutte queste sfide nella sfida più grande che abbiamo, che è quella di uscire dal nostro pianeta ed esplorare nuove superfici estraplanetarie, come la Luna e Marte.